Ben ritrovati in un nuovo video su Biblioteca Spirituale. Pubblicare questo video richiede oggi da parte mia un atto di coraggio, perché i fraintendimenti che si possono venire a creare nell'affrontare questo tipo di argomento sono davvero dietro l'angolo. Però il coraggio non mi è mai mancato e dunque mi auguro di riuscire ad affrontare questo tema così delicato nel miglior modo possibile. Quindi oggi vedremo insieme dove è possibile cercare e trovare il sapere iniziatico, e cioè quell'insieme di informazioni e conoscenze che possono cambiare per sempre la vita di ogni essere umano, sia dal punto di vista interiore che dal punto di vista materiale, e soprattutto renderlo libero. Vedremo perché i grandi personaggi del passato, personaggi che hanno concorso allo sviluppo umano da ogni punto di vista, sto parlando dei grandi inventori, architetti, pittori, scultori, scienziati, musicisti, spesso erano massoni, erano stati iniziati alla massoneria, oppure avevano avuto contatti con dei massoni, oppure ancora avevano studiato le opere di alcuni massoni. E in questo contesto vedremo come si inserisce la figura di Gustavo Adolfo Roll. Perché un maestro illuminato come Roll aveva studiato ed approfondito la teoria dei colori di Goethe, che era effettivamente un massone. E perché era così legato alla figura di Napoleone Bonaparte, che non ci sono dati certi fosse un massone, ma sicuramente aveva avuto delle influenze massoniche. Perché apparteneva a una famiglia di massoni. Il padre era un massone, i fratelli erano massoni, i parenti, i cugini erano massoni. E soprattutto vedremo perché è così importante approfondire, studiare, conoscere le opere dei grandi personaggi illustri del passato per il proprio sviluppo personale e soprattutto spirituale. A differenza di ciò che viene detto sempre più spesso da alcuni divulgatori della moderna spiritualità, che superficialmente vantano di non aver mai aperto un libro, perché tanto il sapere deriva dalla sola intuizione. E di non conoscere le opere dei personaggi del passato, perché tanto appartenenti a una storia che ci raccontano come vogliono e quindi non vale la pena di approfondire. Sono d'accordo con il fatto che spesso la storia ci viene raccontata in modo distorto. Però sono anche convinta che ognuno di noi abbia occhi e mani per cercare le informazioni autentiche e ricostruire i fatti reali. Inoltre, passare il messaggio che la cultura non serve a niente e vantarsi di non aver mai aperto un libro è un modo per rendere più cieco il cieco, metaforicamente parlando. E soprattutto si ignora che nel 90% dei casi, se siamo immersi nella realtà in cui ci troviamo, gli stimoli esterni e la conoscenza proveniente dal simbolo, dall'immagine, spesso può in qualche modo stimolare l'intuizione e quindi l'espansione della coscienza. Ma veniamo a noi perché so che in questo momento è la cosa che vi starete chiedendo di più. Ma cosa c'entra in tutto questo la massoneria? In alcuni miei video precedenti pubblicati su questo canale ho fatto accenno più volte alla massoneria deviata, alla massoneria corrotta, cioè una parte della massoneria moderna che utilizza il sapere iniziatico, le conoscenze esoteriche per i propri interessi, cioè per gli interessi di pochi, danneggiando di fatto l'intera umanità. Ma vediamo che cos'era la massoneria però in origine, cioè com'è nata, a che cosa serviva e perché la massoneria detiene tutto il sapere che se usato nel modo corretto potrebbe concorrere allo sviluppo umano ma soprattutto alla sua liberazione. Le origini della massoneria vengono fatte risalire, anche se ad oggi non ci sono dati storici accertati al 100% al tempo della costruzione del tempio del re Salomone, ad opera dell'architetto Hiram Abiff, un architetto che deteneva una serie di conoscenze spirituali ed esoteriche atte alla costruzione edile rispettando le leggi naturali e divine. Quest'insieme di conoscenze sono state poi tramandate fino a giungere ad un gruppo di muratori britannici del basso medioevo. Questo gruppo di muratori britannici costruivano, proprio grazie a questo sapere, rispettando le leggi naturali e divine, quindi trasponendo nell'architettura e nelle opere che facevano parte dell'architettura, la proporzione spirituale. Esattamente sto parlando della proporzione aura e soprattutto del fatto che si costruiva su punti della terra che emettevano particolari e specifiche energie benefiche. Nel XVI secolo, soprattutto in Inghilterra e in Scozia, iniziano a nascere i primi statuti di corporazioni muratorie, composte da uomini che avevano proprio il compito di osservare le conoscenze più fini nell'ambito della costruzione, cioè l'architettura doveva rappresentare l'essenza divina, per i motivi che abbiamo spiegato esattamente poco fa. Non è un caso che il termine massone derivi da macon o masson, che significa proprio muratore. All'interno di questi cantieri in cui appunto lavoravano i muratori, vi erano poi dei luoghi che loro utilizzavano per rinfacillarsi tra un lavoro e l'altro, o dove tenevano le riunioni per poter discutere su come procedere con i lavori o su quali materiali utilizzare. Insomma, erano dei luoghi in cui loro si ritrovavano per parlare. E come venivano chiamati questi luoghi all'interno dei cantieri? Venivano chiamate logge. Ecco perché e da dove deriva il termine loggia massonica. Quindi, ricapitolando, la massoneria nasce da gruppi di muratori che avevano determinate conoscenze nell'ambito esoterico, nell'ambito delle leggi fisiche e naturali e che cercavano di trasporre, trasferire nelle opere la bellezza, la firma divina. Dovete sapere che all'epoca i muratori, gli architetti, coloro che lavoravano alle opere che poi divenivano del demanio, quindi pubbliche, erano considerate figure di rilievo, figure importanti. E quindi all'interno di questo gruppo di muratori non entravano tutti. Anzi, per fare entrare qualcuno si facevano delle lunghe riunioni e comunque c'erano anche proprio tutta una serie di ritualità che però erano note a tutti. Proprio perché il sapere, certe informazioni, non si poteva rischiare che venissero contaminate. E proprio perché le persone che facevano parte di questi gruppi di costruzione erano considerate persone di un certo rilievo, spesso iniziarono ad approdarvi sempre più personaggi con una certa valenza e con un certo potere sociale. Ben presto, per questi motivi, i muratori o massoni operativi o operanti si trasformarono in massoni speculativi, che assomigliavano più a dei veri e propri salotti in cui i nobili e i borghesi affrontavano e trattavano tematiche sociali e culturali e anche a forte impronta esoterica. Qual era la differenza sostanziale tra i muratori operanti e i muratori e quindi i massoni speculativi? Che le ritualità, le riunioni, le modalità di accesso alla massoneria operante, come ho detto anche prima, erano note a tutti. Mentre le cerimonialità che invece si dovevano affrontare per entrare nella massoneria speculativa erano tenute segrete. Questa è la prima grande differenza. Iniziarono a sempre più logge speculative, sempre più gruppi massonici, iniziarono a spargersi per il territorio. Fino al 24 giugno del 1717, anno in cui sorse la prima loggia massonica ufficiale a Londra, quindi la Grand Lodge, con a capo il Gran Maestro Anthony Sayer. A questa loggia erano partecipi molti duchi, molti letterati e borghesi dell'epoca, quindi tutte figure di spicco nell'ambito sociale. Attenzione, non voglio tediarvi con la storia della massoneria. Sto cercando semplicemente di ricostruirne le tappe principali per far meglio comprendere il contesto in cui ci troviamo e soprattutto perché il sapere iniziatico è così associato alla massoneria e in qualche modo è stato custodito e tramandato proprio grazie alla massoneria fino ai giorni nostri. Al di là poi delle deviazioni della massoneria che comunque vedremo più avanti in questo video. Bene, dopo la nascita della Grand Lodge di Londra la voce sulla massoneria e sull'importanza della massoneria sul lavoro che stava svolgendo sul territorio arriva oltre confine e quindi anche in Italia nasce la prima loggia massonica, in particolare nel 1723 in Calabria a Girifalco. Questa però era una loggia che non era riconosciuta dagli inglesi. Il riconoscimento degli inglesi arriva nel 1728 con la nascita della prima loggia a Napoli, la perfetta unione. Nel 1731 nasce la prima loggia inglese a Firenze e nel 1735 nascono varie logge a Roma, Milano, Padova, Vicenza, Verona e Venezia. Nel 1736 nasce la prima loggia a Genova e da lì si ha poi il via in tutta Italia. Anche a Torino nasce la loggia massonica, la Mysterios. A questo punto la situazione in Italia è quella di tante logge sparse per tutto il territorio che però non avevano un coordinamento e il dialogo non era neanche così agevolato e quindi il 20 giugno del 1805 nasce in Italia il Gran Oriente d'Italia. Il Gran Oriente d'Italia è la prima generale loggia massonica che ha lo scopo di coordinare tutte le altre. Mi fermo un attimo, che cosa abbiamo capito fin qui? Preferisco andare un po' più lentamente, ribadire più volte le cose affinché siano chiare per tutti. Fin qui abbiamo capito come nasce la massoneria, le sue origini e soprattutto qual era il suo scopo. Lo scopo era quello di preservare le informazioni iniziatiche, le conoscenze, per poi poterle mettere a disposizione dello sviluppo della società, quindi utilizzarle per gli altri. Motivo per il quale molti personaggi illustri di rilievo avevano piacere ad aderire alla massoneria ed erano diventati massoni. di seguito vi leggerò l'elenco dei personaggi che hanno veramente contribuito allo sviluppo umano in tanti modi che hanno aderito alla massoneria. Rimarrete stupiti dai nomi di questa lista, veramente molto stupiti e sappiate che non ho potuto metterli tutti perché altrimenti saremmo stati qui fino a domani. Vi leggo i nomi, li ho qui, e poi procediamo. E arriviamo però poi alla massoneria deviata. Ne cito alcuni. Vittorio Alfieri, Giosuè Carducci, Enrico Fermi, Totò, Carlo Collodi, Ugo Foscolo, Gabriele D'Annunzio, Giovanni Pascoli, Niccolo Paganini, Antonio Meucci, Ghett, Garibaldi, Giordano Bruno. Allora, su Giordano Bruno non ci sono fonti storiche accertate, però la massoneria rivendica un legame con lui molto molto stretta. In realtà ci può stare perché Giordano Bruno era un conoscitore incredibile dei segreti dell'esoterismo e della spiritualità e delle leggi della natura. Quindi è possibile che sia in qualche modo appartenuto alla massoneria o comunque abbia avuto dei contatti con dei massoni. Einstein. Tra l'altro Einstein aveva avuto dei contatti con Gustavo Roll. Ci sono proprio degli interscambi. Sono avuto uno scambio epistolare. Roosevelt, Henry Ford, Luigi Orlando, Mozart, Salvador Allende, Manzoni e con molta probabilità anche Leonardo. Quindi vedete che all'interno della massoneria sono veramente tanti i geni. Pensiamo a Leonardo. Leonardo è stato un genio a tutti gli effetti con le sue opere. Ecco, il mio invito è quello di studiare queste opere, di approfondirle perché lì potete trovare un linguaggio comune, che è un linguaggio iniziatico, tale per cui imparandolo, comprendendolo, si può mettere in atto nel processo creativo di ogni essere umano, quindi di ognuno di voi, e portare alla realizzazione interiore e materiale. Per materiale intendo proprio lo sviluppo di idee, di progetti, di progettualità. Sono comunque disponibile per voi a fare dei video che approfondiscano gli aspetti appena menzionati. Nel frattempo andiamo avanti. Come si è corrotta la massoneria? Come è arrivata ad essere la massoneria deviata che molte persone conoscono e identificano oggi nella sua struttura? C'è un perché. C'è una motivazione alla base. Come abbiamo detto finora, alla massoneria appartenevano personaggi di rilievo che avevano un certo ruolo sociale. E la massoneria aveva un paio di norme, un paio di regole che in qualche modo ha ancora. La prima era la regola di segretezza, che oggi è diventata riservatezza perché altrimenti in Italia sarebbe assolutamente fuori legge e quindi non consentita. E le persone che fanno parte della massoneria rischierebbero l'arresto. Comunque questa norma di segretezza era stata messa perché in qualche modo il sapere doveva essere preservato. Insomma non si volevano contaminazioni. I personaggi che facevano parte della massoneria erano persone con una certa cultura, con un certo grado di conoscenza e questa serietà voleva essere mantenuta. Possiamo dire così. E poi c'era un'altra regola che però era più che altro intrinseca alla sua struttura. La massoneria aveva e ha una struttura gerarchica perché si rifà dal punto di vista esoterico e spirituale ai livelli evolutivi e in qualche modo sono d'accordo con entrambe le norme. In primis sono d'accordo col fatto che la conoscenza nelle mani sbagliate può diventare potere distruttivo e quindi è meglio preservarla o comunque non condividerla con persone che magari potrebbero farne un uso sbagliato. E sono anche d'accordo, sono anche d'accordo sulle gerarchie. Prima cosa d'altronde Gesù diceva non date le perle ai porci, quindi in qualche modo voleva passare lo stesso messaggio. E per quanto riguarda la gerarchia che stavo per accennare, la gerarchia si rifà ai livelli evolutivi e anche qui è giusto perché prendiamo per esempio uno studente di medicina. Se gli si dà in mano un bisturi e inizia a operare a cuore aperto può fare dei danni. È giusto invece che faccia tutta una serie di passaggi. Prima di operare faccia il tirocinio, faccia il praticantato. Prima di arrivare a fare il tirocinio e il praticantato abbia delle nozioni, delle conoscenze. Anche nella conoscenza si fa per gradi. Quindi io trovo queste due norme, queste due regole, assolutamente corrette ed in linea con quello che è il mio pensiero. Però purtroppo sia la gerarchia che la segretezza hanno avvicinato a un certo punto personaggi poco raccomandati. Facciamo un passo indietro. Pensate che nel periodo fascista, durante il fascismo, molti massoni sono stati indiustamente perseguitati, torturati ed uccisi. Proprio perché il fascismo aveva paura della conoscenza. La conoscenza può rendere libera una persona. E quindi lo Stato, il governo, riprimeva proprio e sopprimeva, possiamo dire così, la massoneria e i massoni. hanno avuto una persecuzione veramente efferata. E anche la Chiesa, il papato, non era d'accordo con la nascita della massoneria o la sopravvivenza della massoneria. Quindi possiamo dire che Stato e Chiesa non erano ben disposti nei confronti della massoneria. Tant'è che nel periodo fascista molti gruppi massonici furono sciolti. Però continuavano a ricrearsi perché poi alla fine la conoscenza e il sapere sono difficili da, in qualche modo, abbattere. La persona che conosce è una persona, come abbiamo detto più volte in questo video, libera. E quindi, in qualche modo, il libero è poco addomesticabile. Ecco, diciamo così. Questi gruppi di massoneria rinascevano. E allora, a un certo punto, cosa è successo? Che alcuni personaggi politici e clericali hanno detto, ma sì, facciamo che ci facciamo proteggere dalla massoneria. Perché quando si faceva atto di giuramento all'interno della massoneria, quello che accadeva rimaneva lì. E quindi questo ha dato adito ad esponenti della criminalità organizzata di servirsi, introdursi nella massoneria e servirsi di essa per coprire i propri sporchi e loschi affari. Anche la struttura gerarchica in questo caso, però, non ha aiutato ad evitare il problema contaminazione mafiosa e della criminalità organizzata. Perché? Perché ovviamente le informazioni alle quali poteva attingere un gran maestro erano molto diverse dalle informazioni alle quali poteva attingere un massone appena iniziato alla massoneria. E questo non ha fatto altro che contribuire all'oscuramento, all'offuscamento di certe verità anche all'interno della massoneria stessa. Quindi non tutti i massoni sapevano tutto. E qui arriviamo inevitabilmente allo scandalo della loggia massonica Propaganda 2 o P2, che è uno scandalo molto conosciuto in Italia. Non vi parlerò nello specifico per non rendere questo video pesante e lungo. Potete trovare moltissime informazioni a riguardo. Sta di fatto che a un certo punto è proprio emerso il legame tra criminalità organizzata e massoneria. E non solo è emerso il fatto che la massoneria non era soltanto legata alla criminalità organizzata, ma che era la criminalità organizzata a avere il controllo sulla massoneria. Vi lascerò nelle informazioni al video e nel primo commento al video un'intervista che è stata fatta all'ex gran maestro Giuliano Di Bernardo, ex gran maestro del Gran Oriente d'Italia, che è una loggia massonica che è tuttora all'attivo insieme ad altre, ovviamente, sul territorio italiano. Questo ex gran maestro in questa intervista denuncia il fatto che quando era lui gran maestro del Gran Oriente d'Italia, a un certo punto viene a conoscenza del fatto che, per esempio in Calabria, su 32 loggie massoniche attive, 28 non solo erano in qualche modo deviate dall'andrangheta, dalla criminalità organizzata, ma addirittura erano proprio controllate. Giuliano Di Bernardo denuncia tutto a Londra, quindi va in Inghilterra, ha dei contatti con dell'Inghilterra che denuncia il problema e in Inghilterra gli dicono guarda che noi sappiamo già tutto tra servizi segreti, intelligence e quant'altro, siamo a conoscenza di tutto. A Londra consigliano a Giuliano Di Bernardo di sciogliersi o comunque di qualche modo di vincolarsi dal Gran Oriente d'Italia e di fondare un'altra loggia, una nuova loggia pulita. Questa testimonianza tra l'altro è un po' la prova del fatto che sì, la criminalità organizzata e la massoneria sono state e probabilmente sono ancora legate, questo non lo so, mi viene da pensarlo molto e fortemente, però è anche vero che se su 32 loggie, due erano comunque pulite, insomma c'è ancora speranza. Stiamo parlando ovviamente di qualche anno fa, quindi non vi so parlare dell'attuale, anche se sinceramente sapete che io non mi faccio problemi a dire quello che penso, penso che un'influenza vi sia ancora. Non ho né dati né strumenti per poter affermarlo con certezza, però è un mio pensiero personale. Detto questo, lui ci prova, quindi si dimette da Gran Maestro del Grand Oriente d'Italia e prova a strutturare, fa rinascere una nuova loggia, però purtroppo non ci riesce perché anche lì a un certo punto qualche bel personaggio mafioso è andato a bussare alla porta. Ad onor del vero sono andata a vedermi perché volevo capire anche le interviste dell'attuale Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, che torno a ribadire è solo una delle loggie massoniche presenti sul territorio italiano di rilievo e non l'unica. E lui ribadisce in queste interviste più volte che la massoneria, dopo lo scandalo della P2, di cui riconosce le responsabilità, non ha più avuto contaminazioni con la criminalità organizzata. Adesso io ho già espresso il mio parere in merito in questo video, comunque in ogni caso diamogli il beneficio del dubbio. Alla fine del video andiamo a vedere come si presentano i principali siti di queste loggie massoniche nell'attuale, perché le cose vanno indagate, vanno capite. Ritengo che questo mio lavoro con questo video sia uno dei lavori più importanti per tutto il canale, perché contribuisce a in qualche modo arginare la superficialità spirituale e anche la falda nelle conoscenze esoteriche che in questo momento stanno dilagando attraverso i sistemi di divulgazione. Spesso si sente dire, ok, Michelangelo, Einstein, Giordano Bruno, hanno fatto delle grandi cose, però erano dei massoni, quindi in realtà volevano il male della società e quindi non prendiamo in considerazione le loro opere, non le studiamo neanche, perché quelli erano massoni. Ecco, questa è la superficialità, questa è l'ignoranza che porta alla cicità e soprattutto che porta a perdere il sapere iniziatico. Le cose vanno sempre osservate e valutate in modo imparziale e giusto. I grandi iniziati di ogni tempo erano uomini che avevano saputo osservare e cogliere nelle opere dei propri predecessori un linguaggio universale, messo poi a loro volta in campo per creare progetti per il bene dell'umanità. E questo ovviamente rende libero un individuo, senza contare che in termini materiali ovviamente porta moltissimi riscontri. Questo è il mezzo più potente, la cultura e la conoscenza. Ho sempre detto la conoscenza e evoluzione. Alcune persone sotto i miei video, in alcuni casi hanno scritto che con le cose che dico non ci campano, che hanno bisogno di cose molto più concrete per poter svoltare il mese e gestire la routine quotidiana. Ecco, vorrei dire a queste persone che in realtà il processo è proprio inverso, cioè non si campa, si fa fatica arrivare a fine mese perché ancora non si è capito come poter inventare, creare, come ricevere le intuizioni, come entrare nei meccanismi che favoriscono poi le opere che vengono ricompensate dagli altri per la loro funzionalità. Quindi bisogna proprio cambiare il proprio punto di vista. All'inizio del video vi ho detto che dopo questo video vedrete le cose intorno a voi con altri occhi. Ne sono sicura, iniziate ad osservare le grandi opere, iniziate ad entrarci, a studiarle. Magari poi le vediamo anche insieme sul canale o potrei darvi anche delle dritte in merito, ma è lì che troverete le risposte e alle risposte bisogna sempre arrivarci da soli. C'è sempre qualcuno che immette sulla strada, ma poi ognuno deve fare il proprio. Funziona così. Ok, sono sul sito del Grande Oriente d'Italia, vediamo come si presentano perlomeno nelle intenzioni. Leggo. La massoneria del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giussiniani è un ordine iniziatico i cui membri operano per l'elevazione morale e spirituale dell'uomo e dell'umana famiglia. La natura della massoneria e delle sue istituzioni è umanitaria, filosofica e morale. Essa lascia a ciascuno dei suoi membri la scelta e la responsabilità delle proprie opinioni religiose, ma nessuno può essere ammesso in massoneria se prima non abbia dichiarato esplicitamente di credere nell'essere supremo. Bisogna capire cos'è questo essere supremo se si riferiscono semplicemente al Dio. Andiamo avanti. La massoneria non è una religione, né intende sostituirne alcuna, non pratica riti religiosi, non valuta le credenze religiose, non si occupa di nessun tema teologico, non consente ai propri membri di discutere in loggia in materia di religione. La massoneria lavora con propri metodi, mediante l'uso di rituali e di simboli, coi quali esprime ed interpreta i principi, gli ideali, le aspirazioni, le idee, i propositi della propria essenza iniziatica. Adesso cerchiamo di capire se rendono noti quali sono questi principi e queste idee. Andiamo avanti. La massoneria afferma l'alto valore della singola persona umana e riconosce ad ogni uomo il diritto di contribuire autonomamente alla ricerca della verità. Essa inizia soltanto uomini di buoni costumi, senza distinzione di origine o di ceto sociale. I lavori di loggia sono di natura strettamente riservata ma non segreta, anche perché se no sarebbero fuori legge. Il massone è tenuto a rispettare scrupolosamente la carta costituzionale dello Stato nel quale risiede e che lo ospita e le leggi che ad essa si ispirino. La massoneria non permette ad alcuno dei suoi membri di partecipare o anche semplicemente di sostenere o di incoraggiare qualsiasi azione che possa turbare la pace e l'ordine liberamente democraticamente costituito della società. Poi la massoneria è apolitica. Essa impone ai suoi membri i doveri di lealtà civica, riserva loro il diritto di formarsi, la propria opinione riguardo agli affari pubblici ma né in loggia né in qualsiasi altro momento dell'attività massonica è consentito loro discutere in materia di politica. Chissà se è vero. I massoni hanno stima, rispetto e considerazione per le donne. Tuttavia essendo la massoneria l'erede della tradizione muratoria, operativa, non le ammette nell'ordine. In realtà in Italia ci sono degli ordini che hanno le donne. Ogni membro al fine di rendere sacri i propri impegni deve aver prestato solenne promessa sul libro della legge da esso ritenuta sacra. Questo è un po' quello che loro dicono. Proviamo a vedere adesso un altro sito. Adesso sono approdata sul sito della Gran Loggia d'Italia che è un altro ordine massonico italiano. In particolare sono sulla sezione principi potete andarvelo a vedere anche voi. E salta subito all'occhio proprio una citazione di Goethe che è quell'autore di cui Roll aveva letto la teoria dei colori e dice ciò che è ereditato dai padri riconquistalo se vuoi possederlo davvero. Ma vediamo come si presentano così per capire. La libera massoneria ha il suo fondamento essenziale nella fede in una potenza suprema che onora sotto il nome di grande architetto dell'universo. Tra l'altro il concetto di architetto dell'universo mi ricorda le teorie che una persona su youtube rivendica come proprie. Vedete quante cose si scoprono senza volerlo e quindi poi vengono fuori prima o poi. Vabbè andiamo avanti. I suoi principi si compendiano in queste due massime. Conosci te stesso e ama il prossimo tuo come te stesso. E fin qui. È una libera associazione di uomini indipendenti i quali non sono soggetti che ha la propria coscienza e si impegnano a praticare un ideale di pace, d'amore e di fratellanza. Ha per scopo il perfezionamento morale dell'umanità e per mezzo la propaganda di una vera filantropia con impiego di usi e forme simboliche. Impone a tutti i suoi adepti, termine che sicuramente mi piace meno, il rispetto delle opinioni altrui e interdice loro nelle riunioni ogni discussione politica e religiosa, quindi non lo permette, per così costituire un centro permanente di unione fraterna in cui regni una perfetta armonia di pensiero. I liberi muratori si riuniscono in luoghi speciali, chiamate logge, onde lavorarvi ritualmente, quindi tramite rituali, con zelo ed assiduità e non debbono ammettervi se non uomini e donne maggiorenni di perfetta reputazione. Quindi qui vengono ammesse per esempio le donne, questa loggia aperta alle donne, persone d'onore, leali e discrete, degne sotto tutti i punti di vista di essere loro fratelli. Essi imparano nelle logge ad amare la patria, l'umanità, a sottomettersi alla legge, a considerare il lavoro come un dovere essenziale dell'esse umano che fortifica e rende migliore e perciò ad onorare il lavoro sotto tutte le forme, a fare con la parola e con l'esempio con gli scritti ogni propaganda utile sotto la riserva del segreto massonico e a ricordarsi che un libero muratore deve senza posa aiutare e proteggere i suoi fratelli anche a rischio della vita e conservare verso tutti e contro tutti la calma, la riflessione e in una parola la completa padronanza di sé, di qualunque tipo siano le circostanze della sua esistenza e della sua attività. Studio. Per noi liberi muratori lo studio vuol dire educarsi per vivere in rettitudine. Valori. Per noi liberi muratori i valori sono leggi morali universali. Tradizione. Per noi liberi muratori la tradizione è un lascito sacro nell'eternità. Altro sito, altro ordine massonico che vediamo come ultimo in questo video. È sempre un ordine massonico italiano e leggiamo per capire come si presentano e quali sono i loro principi. Articolo 1. Fondamento dell'ordine. L'ordine massonico misto, quindi qui ammettono sia uomini che donne. Internazionale, le droit humain, afferma l'uguaglianza dell'uomo e della donna. Proclamando il diritto umano, l'ordine vuole che entrambi pervengano su tutta la terra a beneficiare in modo uguale della giustizia sociale, in un'umanità organizzata in società libere e fraterne. Articolo 2. Finalità dell'ordine. Composto da massoni, uomini e donne fraternamente uniti, senza distinzione d'ordine sociale, etnico, filosofico o religioso. L'ordine si impone, per raggiungere questo scopo, un metodo rituale e simbolico, grazie al quale i suoi membri edificano il loro tempio per il progresso e il perfezionamento dell'umanità. Quindi lo scopo qui il lavoro su di sé. Articolo 3. Principi dell'ordine. Fedeli al principio di laicità, quindi qui praticamente sta dicendo che non bisogna avere religione, rispettosi della libertà assoluta di coscienza di ciascuno, i membri dell'ordine lavorano per concretizzare i principi di libertà, di uguaglianza e fratellanza, per realizzare per tutti gli esseri umani il massimo sviluppo morale, intellettuale e spirituale, condizione primaria della felicità, che è possibile ad ogni individuo conseguire in una umanità fraternamente organizzata. Articolo 4. Scopi dell'ordine. L'ordine non professa alcun dogma e rifiuta qualsiasi dogmatismo. Esso lavora alla ricerca della verità. Per questo motivo nelle officine le discussioni o i dibattiti inerenti, questioni politiche o religiose, non potranno in nessun caso avere altro scopo se non quello di illuminare i membri e permettere loro di adempiere con migliore cognizione di causa i propri doveri di massoni. Grazie a tutti.